Gli esuberi erano 2250, vengono confermati che oltre 1200 saranno ricollocati attraverso le grandi opportunità di lavoro che avverranno grazie a questo investimento e poi per i 900 lavoratori che andranno in esubero abbiamo a disposizione gli ammortizzatori sociali, 80% dello stipendio per 4 anni e poi l'impegno preso dal Ministero del Lavoro di accompagnare grazie all'accordo con Enna che è di tutto il sistema aeroportuale a ricollocare questi 900 lavoratori, mi sembra che si sia fatto un buon lavoro grazie alla responsabilità di tutti però questa è la strada da percorrere in un paese come l'Italia, guardare avanti, non guardare dietro, avere il coraggio di riaprirci al mondo abbiamo dimostrato con questi sette mesi che ci si poteva riaprire al mondo, adesso aspettiamo la firma dell'accordo e la conferenza stampa che illustri la vera cosa importante è il piano industriale di rilancio cioè sarà illustrato tutti come l'Italia si rilancerà nel mondo